Vi servono crediti? FIFA15CoinSmile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yeppa ragazzi, bentornati su Jovi HD Swap e benvenuti nel 24esimo episodio della serie Road to Glory. Come state ben sentendo, sto registrando in live. Però, prima di iniziare, volevo dire che se volete vedermi in Facecam nel prossimo Road to Glory, vi invito a lasciare un bel pollice in su. Dobbiamo arrivare almeno a 25 mi piace se nel prossimo Road to Glory volete vedermi in Facecam. Ora sono in live e sono qui con le partite più decisive della stagione numero 2. Seconda stagione sono le ultime due partite, devo fare o una vittoria o due pareggi, oppure posso fare due vittorie che mi danno 6 punti e quindi il titolo. Almeno così arriviamo in divisione 1 e può terminare il Road to Glory. Vabbè, non terminerà nella divisione 1, però terminerà non appena avrò giocato una divisione 1. Dunque ragazzi, facciamo un bel gioca partita. Ho fatto due nuovi acquisti, perché Chiellini è stato espulso, allora ho preso Casares, che metterò al posto di Chiellini. Ho preso Ibarbo sul suggerimento e lo metterò al posto di Immobile, così. Questa è una spesa con Ramos, Ramos a 10, vediamo se applico qualche forma fisica, qualche forma fisica a squadra. Se applichiamo una forma fisica all'intera squadra, almeno si caricano al massimo per la next partita, next play. Che cazzo sto dicendo? Non lo so. Comunque, vi ricordo, 25 mi piace, minimo 25 mi piace per il prossimo Road to Glory con la facecam. Ho accolto le vostre richieste e questo sarà in live. Dunque, cerchiamo l'avversario. Questa è la squadra avversaria. Abbiamo i due bagati in attacco. Remy, Welbeck, Sterling, Gerard, Fabricas, Nasri, Clichy, Cahill, Honoura, Walker e Howard in porto. Un 4-4, palla per Jovinco, che riesce ad arrivarci. Un pallonetto di Jovinco. Attenzione, Rete, mamma mia, splendida rete di Sebastian Jovinco. All'ottavo minuto, un pallonetto imprendibile per tutti quanti. Ho visto che ha titubato nel tirare. Rivediamo il replay, un cross, un passaggio filtrante alto, bello. Un pallonetto, altrettanto, 1-0, vai così. Ramos, riesce a liberarsi. Ramos ha tupperti col potere, il tiro di Ramos. Rete imprendibile, il call, bellissimo. Tiro imprendibile, raso terra, sull'angolino basso, 2-0. Jovinco sul corner, in mezzo per la testa di qualcuno. Ci arriva di testa, sì, infatti è Rete. E c'è Raui, di testa. Spunta un semi-bug del calcio d'angolo. Ok, quel giocatore quasi quasi non viene mai marcato. 3-0, bene. Balla per De Rossi, il tiro di De Rossi. C'è la rete. 57esimo, 4-0. Direi che i giochi sono fatti, sono chiusi. Bellissimo l'assist di Ramos. E la conclusione di De Rossi. 4-0, 57esimo, così. La partita termina così, 4-0. Dopo il 4-0, la mia persona non ha più giocato, quindi ho fatto un 70% di possesso palo. Molto, molto bene. 3 punti, veramente facili. 19 punti, promozione ottenuta. Ora, se vogliamo ottenere il titolo, dobbiamo vincere, oppure possiamo accontentarci della promozione. Comunque, passiamo alla prossima. Prossima squadra avversaria, 4-2-2-2. Abbiamo un'ibrida con Rodrigo, Cerchi, Cross, Pepe, Cointrao sulla sinistra, sulla destra. Va a casetto, va al Buena. Matuidi, Varane, Konko. In porta abbiamo Brava per Aubameyang. Aubameyang, il tiro di Aubameyang. Vai, vai. E c'è la rete di Ramos. 63esimo minuto. Dove un primo tempo, senza gol. Arriva il gol di Ramos su questa azione alquanto ambigua e alquanto strana. Ramos, grande, 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 grande. Ibarbo prende questa palla con prepotenza. Ibarbo la piazza. Victor. Ibarbo. Il bug di Foot segna così, con una distrazione avversaria. Lui la infila. Grande Ibarbo. 2-0. De Rossi. Palla per Ibarbo. Di nuovo. Ibarbo a 2x2 col portiere. Ibarbo. È un autogol. È un autogol di chi di Konko? Esattamente. Rivediamo questo replay. Un autogol. Vediamo. È infatti autogol. Incredibile. Aveva parato. Attenzione a questa palla per Rodrigo. Tu per tu con Sirigu. No. Gol di merda. Gol della merda. Incredibile. Vabbè. Ci stanno anche i gol della merda. Ci stanno. Palla per Ibarbo. Il pallonetto di Ibarbo che questa volta entra. Entra. Novantesimo punto. Il bug regna in questa partita con Ibarbo e Ramos. 4-1. Termina così la partita. 4-1. È vittoria che ci permette di avere il titolo della divisione 2 con ottime prestazioni di Ibarbo alla sua seconda in questa partita. È davvero. In più 14.000 crediti. Very, very good. 4-1. Titolo ottenuto. Abbiamo giocato bene. Abbiamo concretizzato le azioni da gol. Il risultato ci ha premiato. 4-1. Partita termina così. 22 punti. Titolo divisione 3. Divisione 2. Scusate. Si approda finalmente. In divisione 1 ragazzi. In divisione 1. Vai. Vai. Vai così. Vai così. Andiamo a giocare la partita. La partita. Giochiamo la partita. Vediamo come stanno queste formazioni. Vediamo. Vanno bene. Partita la divisione 1. Incontriamo una BPL. Con Lukaku Ibarbo. Sterling Schuller sulle fasce. In centro campo. Al centro campo abbiamo Ozil. Matic e Gerrard. Come difensore centrale abbiamo Sako Magalà. Come terzini abbiamo Sanya. Axpil Kuleto. Il portiere. Mignolet. Una BPL non troppo costante. Ramos. Il tiro dalla distanza di Ramos. Un raso terra. Imprendibile per Mignolet. Al primo centro. Nella divisione 1. Ramos al 15esimo minuto. Con questo tiro. Imprendibile per Mignolet. La infila. 1-0. Iniziamo così. Ibarbo. Inizia questa falla. Il tiro di Ibarbo. Rette. Il bug Ibarbo. Anche lui ha il suo primo centro. In divisione 1. Ibarbo non perdona. 2-0. Sterling. In area di rigore. Il cross per la testa. Di Schurwell. Di Gerrard. Scusate. Di Gerrard. Trentesimo minuto. Forse si riapre la partita. Qua sicuramente. 2-1. Evra. Non è fatto niente di testa. Palla per Giovinco. Contro Mignolet. Il pallonetto di Giovinco. Ed entra in rete. Il pallonetto basso di Giovinco. 44esimo minuto. Anche lui. Il primo centro. In divisione 1. In questa prima partita. Bene. 3-1. Palla per Giovinco. A tutti il porto con Mignolet. Il tiro di Giovinco. Rette. Secondo gol di Giovinco. 59esimo minuto. Un bel tiro all'angolino. Nulla da fare 4-1. Palla per Ramos. Il tiro di Ramos. Diciamo che è chiuso la partita. Diciamo perché. Chissà. 5-1. 72esimo. Doppietta di Ramos. Due doppiette. Ramos-Giovinco. Attenzione a Sterling. Cercherà un passaggio raso a terra. No. Tira direttamente. L'81esimo. 5-2. Ci sono ancora 3 golli svantaggio. Sterling. Fa qualcosa di pazzesco. Palla per Ramos. Il passaggio perfetto di Barbo. Il tiro perfetto di Ramos. L'83esimo. 6-2. Si conduce ancora per 4 gol. Il pallonetto dalla distanza considerevole di Ramos. Entra in rete. Fa uscire il portiere. Ramos. Se no perdona. Al suo quarto gol. Dovrebbe essere 4 gol. Quarto gol. Ragazzi. Obama Young. Obama Young. Il tiro di Obama Young. Segna anche lui. Al novantesimo. 8-2. Scarto considerevole. 8 gol. 8 gol. Termina così la partita. 8-2 ragazzi. 8-2. 9-8 di Barbo. 9-9 di Ramos. 4 gol di Ramos. 2 di Jovink. 1 di Barbo. 1 di Mamo Young. Cazzo. 4 gol assist di Barbo. Mamma mia. In prima divisione. Nella prima partita vincerla. 8-2. Qualcosa di pazzesco. Però. Io direi di concludere qui questo episodio. Dopo questa stris di vittorie. Non vorrei. Ci fosse una sconfitta. Per rovinare questa ottima serie di vittorie. Dunque ragazzi. La partita è dominata. Non c'è stata storia. Dunque ragazzi. Ditemi. Se nel prossimo episodio. Volete la Pascam. Se la volete. Arriviamo almeno a 25 likes. Consigliatemi anche se. Un attimo la squadra. Consigliatemi che giocatori inserire nella squadra. Dunque ragazzi. Venite a commentare. Iscrivervi al canale. Se non siete già iscritti. Quello vi spò. Vi saluto. Vi ringrazio. Ci vediamo. Ad un nuovo video. Ciao ragazzi.